Buona giornata a tutti da Claudio Simeoni e da Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Siamo qui per la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo da Radio Gamma 5 FM 94. Siamo qui per parlarvi ancora una volta di stregoneria e di magia. Ancora una volta vi parleremo di quello che noi pensiamo. Intanto voglio ringraziare un'amica Zoe che è venuta anche lei a parlare della sua magia, della sua stregoneria, la strega Zoe. E mentre lei parlava di questo, una gentilissima radioascoltatrice ha detto beh, finalmente con te si può parlare bene, non come quell'arrogante che ho sentito il giorno prima. Forse è il più bel complimento che abbiamo ricevuto e grazie infinite a quella radioascoltatrice. Niente, noi oggi cercheremo essenzialmente di parlare di alcuni termini che usiamo normalmente. Però, prima di questo, vorremmo anche spiegare una piccola differenza che esiste fra vari pagani. Cioè noi non siamo tutti uguali. Io dico quello che penso, quello che vedo e quello che percepisco io e nel modo e nella forma che io percepisco. Mentre invece Francesco, che fa parte dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, vi parlerà che all'interno dell'Istituto ci sono vari modi di vedere le cose, di dare importanza alle cose. Perché le nostre soggettività sono sempre diverse. Il paganesimo si differenzia da ogni altra religione perché non esiste un riferimento ideologico, un'idea precisa alla quale sottomettere le persone. Al contrario, esistono le persone che percepiscono il mondo e che si mettono insieme per fondere la loro percezione. Pertanto, il paganesimo si differenzia perché non ha un libro sacro, ha dei principi sacri, ma non il libro sacro. Ora, alcuni pagani percepiscono il mondo circostante come un mondo vivo, come del resto lo percepisco anch'io. Ne percepiscono la coscienza, ne percepiscono il sapere, la consapevolezza, le determinazioni, il volere. Altri, e questo parlo per me essenzialmente, io provengo dalla stregoneria, pure semplice, è la stregoneria che mi ha costruito e mi ha portato al paganesimo, mentre invece non vengo dal paganesimo in sé. E allora, la mia visione del mondo è una visione in mutamento, di continuo mutuare, di continuo cambiare, di finalità di quello che esiste, ed è la forza per raggiungere quel fine, per cui io pratico magia per arrivare ad un fine. Mentre invece, nel paganesimo, esiste una percezione del circostante con la quale ci si può fondere. e si diventa circostante. Mentre invece io punto più sulla stregoneria del mutamento. Adesso passo a Francesco la parola. È molto difficile definire che cos'è il politeismo o il paganesimo o la stregoneria, in quanto queste non sono delle religioni codificabili e codificate, in quanto non esiste una struttura gerarchica che permette la trasmissione della conoscenza, perché tutto quanto viene delegato alle persone. Nel senso che questa mancanza di regole è necessaria in quanto non è possibile codificare la vita. Cioè la vita ha delle manifestazioni diverse, ha delle situazioni molto complicate, e queste qua non possono essere codificate a priori, ma devono essere accettate perché come sono così. Di conseguenza bisogna proseguire nella vita, cioè essere dinamici. A differenza ad esempio del monoteismo, il monoteismo ad esempio concepisce la divinità solo come un'unica manifestazione, che avviene una volta soltanto e che è irripetibile. Nel politeismo o nel paganesimo questo non c'è, cioè la divinità viene sempre ripetuta, può essere sempre concreta, può essere sempre ripetuta, può essere sempre richiamata. La manifestazione della divinità non avviene con delle difficoltà anche di richiamo, ma in quanto questa divinità, essendo nel paganesimo, nel politeismo, all'interno della terra stessa, dell'uomo stesso, della vita stessa, essendo che convive con l'uomo, è continuamente vicina. Di conseguenza c'è una possibilità di interagire con il mondo, in quanto il mondo è divino e questa divinità non è fuori. Nell'esempio nel discorso che fanno i monoteisti, soprattutto i cristiani, che abbiamo qui ad esempio in Occidente, vogliono interpretare la divinità come esterna al mondo, che ogni tanto punge in qualche forellino e entra e si manifesta, abbiamo queste apparizioni. Per noi pagani e politeisti questo non avviene, in quanto essendoci già la divinità presente, si basta soltanto osservarla attorno e di conseguenza possiamo entrare in contatto, non abbiamo bisogno di richiamarla. I sacrifici che vengono fatti dai pagani e dai politeisti servono più che altro alle persone che li fanno, in quanto sono degli strumenti che in quel momento vengono utilizzati per sviluppare una propria psiche, una propria condizione, una propria necessità. E questo appunto permette sempre di intervenire e di agire su questa realtà, in quanto non c'è nulla che c'è al di là di questo, perché non c'è uno scopo da costruire che deva servire per una struttura. Ma tutte quante le funzioni che avvengono all'interno del politeismo vengono sempre per le persone stesse. Nel senso che se io faccio qualcosa non lo faccio per un santone, per un Dio o per qualcosa, lo faccio per me e per questo Dio. Questo Dio non può essere separato da me, non può essere diverso, non può essere contro di me. Un esempio che noi possiamo fare per capire questa differenza lo abbiamo ad esempio con il Dio dei monoteisti cristiani. Questo Dio compare, più delle volte compare in sogno, da degli ordini che devono essere eseguiti in maniera tassativa e a cui non si può opporre. Per quanto invece riguarda ad esempio i pagani, agiscono sempre con la presenza del Dio e il Dio consiglia o è vicino a loro, cioè gli aiuti in qualcosa. Per fare degli esempi concreti, prendiamo un libro che tutti quanti conosciamo, per sentire o dire ad esempio l'Odissea. Ad esempio quando Ulisse naufraga in certe zone, le persone che si fanno incontro non si fanno spaventate, lo fanno incoraggiate dalla divinità, ma la divinità non dà loro il coraggio, le incoraggia, cioè dà un contributo affinché queste persone non abbiano paura di lui. Parlo ad esempio del caso di Nausicaa, cioè Nausicaa si avvicina a questo naufragolo per accoglierlo, però non lo fa soltanto perché, per spirito diciamo soltanto suo, perché la divinità gli dà il coraggio di avvicinarsi e di parlare con uno straniero. L'aiuto che viene dato a tutte e quante le persone nel paganesimo non è un aiuto perché obbligatorio, perché c'è un discorso che nel paganesimo, nel politismo, la base non è una struttura esterna, ma è la comunità, una tribù, quello che vogliamo intendere come un'aggregazione, una società. E questa società può vivere solo con delle regole, cioè accettando le altre persone, di conseguenza ponendo il valore delle persone, delle cose all'interno di questo mondo, non c'è nulla che possa essere abbandonato, perso, non accettato. Tutto va compreso. Difatti noi nel paganesimo, nel politeismo, nella stregoneria, abbiamo delle divinità per più funzioni. Cioè nel paganesimo non esiste il problema di interpretare una manifestazione di dire è una manifestazione regolare, è irregolare, è una cosa non accettabile. Noi abbiamo ad esempio nel monoteismo che dicono questa è una manifestazione satanica, questa è una manifestazione negativa, questa è qualcosa che va combattuto. Nel politeismo questo non esiste, in quanto qualsiasi manifestazione, per quanto possa essere contrario a noi, possa essere contro di noi, o che non ci piaccia, ha una sua divinità. Il fatto che noi ne abbiamo una paura di questa manifestazione, o di questa cosa, non dipende tanto dalla nocività in se stessa, è da una nostra mancanza di capacità di comprenderla. perché cosa succede? Che se noi, per fare un esempio, se noi una persona ci sta parlando e noi non l'ascoltiamo, questa persona tenderà a farsi capire alzando la voce, o venendoci a toccare, o spingendosi per richiamare l'attenzione. Le divinità pagane, essendo trascurate, e non ce ne accorgiamo che ci sono, logicamente manifestano la loro potenza. Perché noi ad esempio abbiamo delle manifestazioni in queste società, nella nostra società, che sono tendenzialmente estreme, proprio perché non riusciamo a trovare una spiegazione, o perché non riusciamo a vedere cosa c'è dietro. Moltissimi esempi fanno degli esempi concreti di divinità nel mondo contemporaneo. Dicono, noi notiamo ad esempio uno sviluppo della violenza. Benissimo, la violenza va controllata, va limitata, ma non può essere negata, cioè in quanto nell'uomo esiste una base di violenza. Perché questa violenza ci sfugge, questa violenza non riusciamo a controllare, questa violenza si può distruggere, perché noi non ci accorgiamo di quella divinità che è all'interno della violenza stessa e di conseguenza più noi ne siamo privi di conoscenza e più questo è cercare di farsi capire. Nel momento in cui non riusciamo a comprendere che anche questa violenza ha una sua funzione e che è innegabile perché è connaturata all'uomo, qui possiamo fare l'esempio anche di studi di tipo dell'etologia di Coran Lorenz che sostiene appunto chiaramente che la violenza è una cosa insita nell'uomo, insita nel suo patrimonio genetico, che però con la conoscenza e l'educazione uno può modificarla, può controllarla. Benissimo, se noi sappiamo questo, che è una cosa che noi portiamo con noi, come noi portiamo le mani, come abbiamo gli occhi, dobbiamo accettare il nostro essere biologico. Se questo essere biologico noi non riusciamo ad accettarlo, lo rifiutiamo, sorgono le malattie. Allora, come sorgono le malattie del corpo, sorgono le malattie dell'anima e sorgono le malattie della comunità, perché in fondo il mondo essendo un sistema vivente, la società essendo un sistema vivente, se noi allontaniamo qualcosa dalla nostra vita, non riusciamo assolutamente a intervenire, cioè non riusciamo a controllarlo, perché ci sono vari tipi di comportamento, anche dal punto di vista diciamo così psicologico, cioè esiste una possibilità di combattere qualcosa, di fuggire da qualcosa o se non riusciamo a fare questo c'è la malattia. Benissimo, noi non riusciamo a combattere la divinità perché noi siamo divinità stesse, serve combattere contro noi stessi, non riusciamo a fuggire dalla divinità, di conseguenza abbiamo soltanto la malattia perché non la accettiamo. Allora, soltanto prendendo conoscenza del mondo che ci circonda, che è vivente e che vive con noi, che il nostro sistema di vita, non la nostra possibilità di vita, dipende da come noi interagiamo con loro e questo non dipende soltanto con gli esseri diciamo animali o vegetali, ma dipende anche con la comunità, cioè nel senso che anche le città hanno un'anima, anche le città, i paesi, le comunità, i gruppi di persone hanno un'anima e questi gruppi di comunità ad esempio creano un nome di divinità, cioè una città, i suoi abitanti, esiste un genio della città che è un genio legato alle cose, al luogo, ma esiste anche un genio della città, cioè una divinità della città, legata alle persone che abitano in interno di questa città. Quirino per esempio, Quirino è il dio della città? esatto, cioè esistono un'infinità di esempi di geni locali che vanno a condizionare la psiche, difatti se noi abbiamo ad esempio la spiegazione ad esempio di certe manifestazioni ad esempio anche di alcune feste tanto per dire noi notiamo che ci sono alcune feste che vengono riprese con una certa continuità. Queste feste vengono riprese perché? Perché esiste un genio locale che va a condizionare e modificare il comportamento delle persone, cioè nel senso che è talmente forte che noi non lo possiamo sardicare e di conseguenza riesce a trasmettere tramite influssi di vario genere un condizionamento alle persone e queste persone sentono il bisogno ad esempio di fare la festa delle castagne o la festa delle noci perché? Perché appunto questa divinità è così forte che chiede la sua presenza e gli uomini cercano di assecondarla. Il fatto che noi riusciamo a creare questo rapporto cioè di interscambio con la divinità ci permette di vivere meglio. Cioè quello che voglio far capire è che noi non dobbiamo pensare che esista una religione ma esiste una religiosità e questa religiosità viene delegata a tutti cioè nel senso non esistono dei sacerdoti che ti possono far capire che quello che ti circonda è sacro ma deve essere il tuo modo di agire il tuo modo di fare il tuo modo di intervenire che ti permette di entrare in contatto con la divinità e di conseguenza non c'è neanche bisogno di qualcosa diciamo di un testo perché i testi sono superflui cioè possono far cultura ma non fanno conoscenza la conoscenza viene fatta soltanto dal nostro essere cioè noi possiamo apprendere delle tecniche ma se queste tecniche noi non le sappiamo utilizzare è come ad esempio uno che si mette a leggere un libro di computer può benissimo leggere ad esempio un linguaggio di programmazione può benissimo capire le parole ma non sa programmare perché non si impegna non interessa non lo vuole fare e di conseguenza noi dobbiamo capire che quello che facciamo è legato al nostro modo di essere difatti gli esempi più classici che si possono dare di paganesimo non sono in testi sacri cioè nel senso che non c'è la possibilità di dire io voglio capire cosa è il paganesimo il politismo la stregoneria con un testo sacro cioè dire esiste la Bibbia della stregoneria non esiste tutti i libri che sono in giro di stregoneria sono libri che sono di supporto sono delle invenzioni in gran parte sono fatte anche degli avversari le streghe ad esempio che sono stato il più grande movimento diciamo pagano e politista soprattutto di massa cioè di gente negli ultimi secoli non hanno un assetto dei testi sacri cioè gli unici testi che sono rimasti sono stati liati dei loro processi ma loro non avevano bisogno per vivere di avere un testo o di delegarlo a qualcuno avevano bisogno di comportamenti avevano bisogno per essere streghe o per essere stregoni ad esempio di andare al sabbio cioè di andare a una riunione collettiva che permettesse a tutte le persone di manifestarsi e di partecipare a un rito cioè di partecipare a qualcosa di collettivo e questo è fondamentale e soprattutto se noi notiamo ad esempio nei processi di stregoneria questo attacco continuo ad esempio al comportamento anche estetico delle streghe cioè le streghe e gli stregoni vanno nudi mettono sul loro corpo un guento proprio perché è fondamentale nella comunicazione nella stregonaria nel paganesimo nel politeismo è fondamentale il linguaggio del corpo e delle immagini cioè tutto quanto il paganesimo tutto il politeismo lega il suo modo di essere di manifestarsi sono delle immagini noi possiamo fare ad esempio un esempio buon concreto di cosa è importante un'immagine noi abbiamo nel monoteismo soprattutto quello cattolico qui nel mondo occidentale una presenza di Dio che è di un cadavere sostanzialmente il corpo di Cristo noi lo vediamo sempre manifestato come un cadavere con un cadavere ferito sanguinante e sempre morto al contrario nel paganesimo nel politeismo noi troviamo un'immagine inversa troviamo ad esempio l'immagine di Pan Pan ad esempio al contrario di Cristo è manifestato sempre come un essere vivente addirittura sempre un Dio che corre difatti sembra un Dio in movimento un Dio che segue le ninfe che corre nei boschi proprio perché è un comportamento più simile agli uomini cioè lì la manifestazione ad esempio di Pan sono varie noi abbiamo ad esempio che Pan porta ad esempio gli zoccoli ma porta gli zoccoli non tanto perché ne abbia un bisogno particolare è per cercare di marcare la sua presenza su questa terra cioè ad esempio noi abbiamo il corpo di Cristo il corpo di Cristo porta ad esempio i piedi forati e i piedi forati sappiamo benissimo che non permettono di camminare bene su questa terra abbiamo ad esempio Cristo muore ma non muore sulla terra non viene neanche inumato cioè non viene neanche messo in una fossa viene addirittura appeso cioè staccato dal terreno abbiamo ad esempio il suo cuore è ferito abbiamo un costato che perde sangue noi sappiamo che appunto quando si perde sangue si perde la vita cioè si rischia di conseguenza abbiamo l'esempio di un corpo malato alcuni pagani giustamente io ho accetto questa interpretazione sostengono che alcune malattie che noi abbiamo al di là dei motivi da cui siamo nati da cui siamo venute sono dovute alle immagini malate che si vengono proposte prendiamo ad esempio l'immagine appunto sempre di Cristo assomiglia benissimo a certi tipi di malattie che stanno diffondendo si parla dell'ADS cioè se noi prendiamo il corpo di un malato di ADS e lo confrontiamo dal punto di vista dell'immagine con il corpo di Cristo vediamo che esiste una similianza incredibile proprio perché in 2000 anni si è stato inculcato nelle persone sono una forma di manifestazione corporea di un certo tipo ad esempio vediamo un assistere ad esempio dei problemi sugli legati alla sessualità questo perché è dovuto perché ad esempio l'immagine di Cristo non porta né il pene non porta niente cioè nel senso vediamo che l'unica parte del corpo di Cristo che viene nascosta che viene camuffata che viene tolta sono gli organi genitali non abbiamo quasi nessuna raffigurazione ad esempio dei genitali di Cristo di conseguenza questo significa che abbiamo una divinità che non offre un modello di comportamento sessuale sappiamo che esistono varie possibilità di manifestazione sessuale nel paganismo queste sono tutte quante previste sono tutte quante accettate non sono limitate cioè noi abbiamo le varie possibilità di manifestazione e questo qui appunto significa dando un'unica immagine di quel tipo togliere le possibilità alle persone di comprendere qual è la loro forma di manifestazione noi ad esempio abbiamo un corpo di Cristo che durante la sua vita come ci viene raccontata non sente mai ad esempio le certe esigenze che sono naturali noi ad esempio abbiamo nella raffigurazione classica dei pagani dei politeisti abbiamo ad esempio la dura divinità che sentono il bisogno di lavarsi cioè quando mai nella Bibbia si è trovato che Cristo ha detto mi faccio una doccia mi faccio un bagno cioè non voglio essere offensivo ma voglio dare queste immagini cioè dire com'è possibile che ad esempio una divinità senta come io parlo ad esempio del fatto di Diana e Ateone Ateone è curiosito da trovare Diana al bagno per poterla vedere per poterla guardare per poterla vedere ma quando mai una divinità ha il bisogno ha il bisogno appunto di lavarsi bene io forse ho parlato un po' troppe cose se comunque gli ascoltatori vogliono chiamare e chiede delle spiegazioni o delle altre informazioni benissimo siamo qui insomma certe volte parlando senza un discorso scritto è difficile essere chiare comunque potrei sempre chiamare passo la parola a Claudio scusate stiamo ricevendo delle telefonate ma vorremmo bloccare le telefonate ancora per un po' il problema nostro è che Francesco vi ha esposto a quello che è una visione che è all'interno dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti cioè l'immanenza delle divinità sopra gli esseri umani e forse ha calcato secondo me un po' poco la mano sul fatto di farsi divinità cioè ogni essere umano diventa la divinità cui quell'azione partecipa cioè se io faccio un'azione divento quella divinità nel paganesimo non esiste una divinità che comanda gli uomini esiste delle divinità che fanno delle azioni e gli uomini che si fanno quelle divinità comunque io volevo esporre brevemente alcuni principi a cui noi facciamo capo prima di rispondere alle telefonate sono una decina di principi che ho voluto selezionare in modo che non si dica necessariamente che noi facciamo le cose soltanto per combattere il cristianesimo io provenendo dalla stregonaria pure semplice ho come nemico numero uno il dio dei cristiani e quello è il mio nemico in assoluto perché è l'orrore perché è la parte nera dell'umanità però noi abbiamo la nostra religione la nostra fede va oltre a questo cioè nel senso che noi i nostri principi sono assoluti infatti noi fumo derubati dei principi con i quali fondavamo il nostro divenire dopo il furto gli stregoni estesero i principi del paganesimo a tutto il fare umano quando quei principi vengono riportati alla religione come relazione fra gli esseri umani e il loro circostante allora i cristiani scatenano il loro odio come in Bosnia in Croazia in Rwanda e in Afghanistan ricordiamoci che queste sono tutte guerre di religione dove sterminare il nemico sfregiarlo farlo a pezzi è parte integrante del cristianesimo dei musulmani e di qualsiasi altro tipo di fede voglio dire la coscienza di sé e la coscienza del sé quando noi diciamo coscienza di sé e coscienza del sé cos'è che intendiamo col termine coscienza definiamo qualsiasi oggetto di qualunque natura esso sia che riconoscendo se stesso tende a crescere e svilupparsi con il pronome sé indichiamo l'oggetto cosciente con la congiunzione sé indichiamo la direzione del suo sviluppo che coincide col sé universo in pratica un oggetto conosce se stesso e diventa coscienza di sé a un percorso e una direzione per diventare sé universo una diversa direzione è la distruzione dello sviluppo del sé e la sua risoluzione nella pulsione di morte che cos'è la pulsione di morte? è quella tensione che avvolge l'essere umano quando viene sconfitto nel percorso del suo sviluppo la pulsione di morte si esprime attraverso due atteggiamenti principali l'autodistruzione sotto forma di rassegnazione e attesa della fine oppure con atti ed attività distruttive nei confronti del circostante più o meno col muoia Sansone con tutti i filistei potere di essere e il potere di avere cosa intendiamo noi quando parliamo di potere di essere e potere di avere? col termine di potere di essere indichiamo la forza di ogni coscienza di sé nel percorrere il sentiero per il proprio sviluppo per potere di essere intendiamo l'insieme del sapere della conoscenza la capacità di percezione e la forza di determinazione della coscienza nel caso di esseri della natura con potere di essere oltre a quanto sopra indicheremo anche il loro sviluppo fisico e le loro specificità di adattamento all'interno della natura nel caso dell'essere umano aggiungeremo oltre a quanto sopra l'abilità delle sue mani il potere di avere è l'incapacità di un essere a sviluppare il proprio potere di essere e perciò tende ad impossessarsi di altri esseri per impossessarsi delle loro capacità e soddisfare con questo i suoi bisogni dunque il potere di essere costruisce il potere di avere distrugge anche il concetto di libero arbitrio è importante che cos'è libero arbitrio i cristiani hanno cercato un miliardo di definizioni e non ne hanno mai trovata una decente nel paganesimo e nella stregoneria il libero arbitrio è la capacità dell'essere di qualsiasi essere di sviluppare adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate cioè adattare se stesso a quanto incontra e continuare a svilupparsi dove lo sviluppo del potere di essere dell'individuo gli permette di individuare più variabili fra le quali scegliere per costruire il proprio adattamento e per conseguenza il suo sviluppo un altro termine che noi usiamo è il condizionamento educazionale il condizionamento educazionale è l'azione del circostante sul singolo essere il condizionamento educazionale è parte della crescita di un individuo diventa distruzione dell'individuo quando agisce per bloccare nella crescita l'essere umano adulto deve distruggere il proprio condizionamento educazionale per espandersi alcuni mezzi per liberarsi dal condizionamento educazionale sono ricercare la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere chiedersi il perché delle cose e il perché del perché delle cose sviluppare meditazione contemplazione e sognare per alterare i sensi ciò permette di superare i fenomeni descritti dal condizionamento educazionale e tendere a puntare l'attenzione sulle cause un altro concetto del paganesimo della stregoneria è il divenuto e il divenire nella stregoneria e nel paganesimo ogni cosa dell'esistente ogni essere è divenuto attraverso una sequenza di trasformazione di quanto lo ha preceduto sia a livello fisico sia nella struttura dell'energia vitale sia nella coscienza che nelle sue determinazioni con le quali agisce in stregonaria nel paganesimo si dice ogni cosa dell'esistente e ogni essere ha lo scopo di costruire il proprio divenire crescendo e dilatandosi nel circostante questo finché non interviene la pulsione di morte che sviluppa il bisogno di appropriazione e distruzione del circostante pertanto non esiste il concetto di creazione in quanto il concetto di creazione è un parto di fantasia malata di morte essere ed entità e questo è un discorso abbastanza complesso nel corso dell'evoluzione alcuni esseri unicellulari hanno dato vita ad esseri pluricellulari dove l'essere pluricellulare dal punto di vista della stregoneria può essere considerato come risultante di tutte le sue parti per assurdo se nascessimo senza gli occhi per guardare la nostra coscienza il nostro essere sarebbero diversi ogni essere della natura può essere considerato come un'entità formata dall'insieme delle sue parti delle sue cellule in stregoneria nel paganesimo si afferma che la singola coscienza di sé dell'essere può diventare parte di coscienza di sé pur continuando a mantenere il proprio tipo di individualità e questo è il farsi divino il farsi dio per gli stregoni e i pagani l'entità è una coscienza di sé formata dall'insieme di coscienza di sé questa può essere specifica territorio tensioni o universale un altro concetto è l'attenzione l'attenzione è la capacità dell'essere e dell'essere umano nel nostro caso di concentrare tutto se stesso in una sola direzione così l'attenzione nella contemplazione consiste nel concentrare tutto se stessi nella contemplazione e sull'oggetto contemplato così l'attenzione nella meditazione consiste nel concentrare tutto se stessi nelle meditazioni e sul flusso degli oggetti del pensiero così l'attenzione nel chiedersi il perché delle cose consiste nel concentrare tutto se stessi nel chiedersi il perché delle cose così l'attenzione nel sognare significa concentrare tutto se stessi nell'arte del sognare l'attenzione è la capacità dell'essere di ogni essere di concentrare se stesso in funzione di un qualche obiettivo un'altra cosa di cui parleremo molto è il termine volontà e determinazioni le determinazioni sono le azioni e le gesta che un essere esegue per imporre la propria presenza e il proprio diritto ad esistere al mondo circostante le determinazioni sono le azioni attraverso le quali il circostante si relaziona quel singolo essere la volontà è la capacità dell'essere di costringere il circostante a considerare la sua presenza e a comprenderla nel suo divenire volontà è la determinazione del soggetto a dire al circostante io sono e ho diritto al mio divenire un altro concetto è il concetto di divinità di cui abbiamo già parlato precedentemente che cos'è una divinità e ogni essere il cui scopo è estendere se stesso in armonia col circostante per fare questo ogni divinità deve favorire il divenire di ogni altro essere di ogni altra divinità ecco vi ho illustrato alcuni punti di cui noi nel corso delle varie trasmissioni parleremo e secondo me era importante parlare di questo perché altrimenti arriviamo a scannarci con i cristiani e con i cattolici in particolare e basta ora se Francesco vuole aggiungere qualcos'altro dopo comincieremo a dare via alle telefonate scusatemi se il telefono fischierà molto sto imparando adesso ad usare questi strumenti probabilmente Claudio avrà bisogno di evocare l'aiuto di Atena per la tecnologia perché i pagani non hanno paura delle manifestazioni contemporanee tanto per dire noi assistiamo a uno sviluppo delle aree informatiche delle aree telematiche queste manifestazioni non sono problematiche da interpretare per un pagano in quanto ad esempio la necessità continua di accettare le nuove tecnologie e lo schematismo è legato ad Atena certo che se noi ad esempio questa divinità non la sappiamo riconoscere questa divinità diventerà sempre più dominante nel senso che noi potremmo utilizzare ad esempio l'informatica in una società in cui serve all'uomo o potremmo arrivare ad esempio trascurando le divinità alla condizione di trovarci col grande fratello questo appunto succede proprio perché noi non siamo capaci di interpretare la realtà come si presenta ma quello che è fondamentale per capire le manifestazioni appunto delle varie divinità è il loro contributo che danno all'uomo cioè noi nel monoteismo e parliamo appunto del cristianesimo cattolicesimo ebraismo e islam le divinità non insegnano niente dell'uomo cioè danno degli ordini danno delle direttive e questo devono essere rispettati noi notiamo ad esempio nel paganesimo nel politeismo che le divinità servono l'uomo cioè le aiutano tanto per dire noi abbiamo ad esempio la presenza di Pan nelle attività concrete cioè non va a bloccare le attività degli uomini cosa vediamo? ad esempio Pan interviene nella battaglia di Maratona andrà a parte si schieda da una parte e difende logicamente chi lì è più vicino noi ad esempio vediamo che Apollo ad esempio insegna a coltivare l'olivo gli spostamenti delle divinità non avvengono in un territorio per portare qualcosa e imporre qualcosa e trascinare via le persone avvengono per poter permettere alle persone di poter anche vivere meglio cioè insegnano l'agricoltura ma il loro modo di agire non viene mai condannato cioè nel senso che una divinità può fare qualsiasi cosa ma la condanna non può essere la morte o non può essere un esilio prendiamo il caso di Prometeo Prometeo vede gli uomini che sono in certe condizioni che hanno un bisogno e cosa fa? Ruba agli dèi il fuoco e lo dà agli uomini Giove non lo uccide non lo condanna lo mette cioè lo castiga sì però non gli toglie la vita cioè nel senso che lui ha sempre la possibilità di ribellarsi e di tornare libero cioè non gli dà una condanna che è assoluta dice tu non dovevi fare questo da bene io non ero d'accordo però si c'è si parla pure pronto buongiorno sono Giovanna allora ho pensato un bel momento prima di chiamare perché non volevo farlo dico la verità poi mi avete tirato per i capelli allora bisogna chiedere la mia si chiama tentazione questa è una tentazione allora voi siete dannosi veramente ve lo dico molto onestamente siete dannosi perché già ne abbiamo avuto di male dalla chiesa io sono assolutamente contraria con tutto quello che è che è stata la nostra modo di vivere la religione di vivere la religione che è diverso voi arrivate qui e ci propinate tutte queste cose che ognuno di noi se è interessato entra in una libreria anche di infimo ordine trova quello che voi state propagandando sicura? eh? sicura? sì comunque altro che però altro che sì innanzitutto vorrei sapere a che istituto appartiene lei non si sa da che parte sì beh ti dico l'istituto mediterraneo di studi politeistiche dove? dunque la sede ti do l'indirizzo ti do la ricapita postale la casella postale 53 aspetta perché alzo un po' la radio perché non sento niente un attimo solo allora per chi ad esempio volesse avere maggiori informazioni noi possiamo inviare anche del materiale gratuitamente logicamente ah eccolo qua ah ecco qua adesso ho capito voi inviate materiale è la domanda che ho fatto la settimana scorsa sì cosa fate voi in radio cosa qual è lo scopo finale della vostra della vostra trasmissione vendere libri no 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 fare proseliti fare soldi fare riti strani non le pare che ne abbiamo abbastanza di riti strani in giro anzi ne mancano se ne ho mai proposto qualcuno mi hai mai sentito proporne dunque voi non mi conoscete io non conosco voi perciò non posso naturalmente sapere quello che voi fate voi non potete sapere quello che io posso fare o non fare sì sì ma questo è vero ecco perciò questo è un discorso a parte non è una domanda giusta da fare perché non ci conosciamo non conosciamo le reciproche esperienze chiaro perciò non dobbiamo fare voi ripeto e non voglio più andare avanti perché sennò altrimenti sarei qua tutta la sera a cercare di combattere voi e voi combattere me io non voglio che voi cambiate idea neanche voi dovete far cambiare idea a me ma siete dannosi grazie molto dannosi grazie questo è un buon incoraggiamento siccome siccome mi fa tanto piacere sentire io sarò io sarò molto felice lo voglia, con Franco, perché voi siete dannosi ragazzi, dannosi, grazie, arrivederci, io volevo dare una risposta, guardate che sono telefonato, pronto? Sì, pronto? Sì, parla pure, pronto? Sì, c'è in diretta, ti sentiamo, ecco io sono Angelo, mi trovo perfettamente in linea con la Giovanna, ma perfettamente in linea, voi siete dannosi, adopero la sua frase perché proprio calza e pennello, allora una cosa, primo, non riesco a capire perché uno apre una trasmissione in una radio, libera naturalmente, ma libera non significa pestare su quella che è l'intelligenza delle persone, secondo me, perché libertà è un altro discorso, questa è anarchia, avete aperto la trasmissione dicendo che avete avuto quella signora che ha detto che dell'arroganza eccetera, dice questo è il più bel complimento, io non riesco a capire perché due personaggi, perché ecco non vado oltre, devono andare su una radio e provocare per sentirsi insultare, dice questo c'è un complimento per noi, perché questo non riesco a capirlo, poi ragazzi documentatevi prima, riusciamo un attimo a capire cosa significa spiritualità e materia, perché sono due cose completamente diverse, allora voglio fare una precisazione, non è che sia insita nell'uomo l'aggressività, perché siete rimasti indietro, perché in questi ultimi tempi, proprio studi fatti recenti in Inghilterra, tanto per non far nomi, hanno dimostrato che un'alimentazione sbagliata crea aggressività in un bambino, questo vale per il bambino, vale per tutti, cioè voi non avete capito che l'organismo, la natura è fatta di cellule, con tutto quello che ne compete eccetera, e i nostri stati d'animo sono influenzati, questo non lo dico io, ma è la scienza che lo dice, da certe reazioni biochimiche che avvengono, questo è scientificamente dimostrato, per cui metterci lì a parlare, che c'è l'aggressività, che tutto quello che io vedo può essere una divinità, cioè farci propinare che la cosa, le cose di rospo, cioè facciamo le magie con le cose di rospo, mettere sulla stessa bilancia quella che è magia, quella che è religione, cioè con tutto rispetto, io rispetto tutte le religioni, allora queste cose non si devono fare, io mi associo alla signora, alla Giovanna, mi associo ma totalmente e siccome io non ho nessuna influenza questa radio, io gradirei che lei intervenisce con chi di dovere a bloccare queste trasmissioni, e guardate caso, per non essere frainteso, che io sono, mi reputo una persona molto ma molto democratica, però non apprezzo l'anarchia, perché questa è l'anarchia, se uno non può andare a dire tutto quello che vuole, cara signora Giovanna, che non ti conosco, mi spiace perché io ho commesso lo stesso errore tuo, ma è un errore necessario, se il fatto pregherei anch'io visamente per qualcuno di protestare ma non di telefonare più, grazie, ciao grazie, scusate un attimo prima di passare un'altra telefonata, questo è vero, in effetti a noi o ci hanno bruciati o ci hanno massacrati di botte o ci hanno torturati per impedirci di parlare, oppure ci accusano di fare riti con le corde di rospo o riti assurdi o di mangiarsi i bambini, quando chi fa i sacrifici umani sono solo i cristiani con il loro battesimo, e questo è una cosa vergognosa, ora è chiaro che noi siamo dei provocatori nel senso che noi puntiamo verso la libertà delle persone, è chiarissimo che il nostro discorso di libertà è un discorso che tocca la coscienza interiore, ora è chiaro che riceveremo attacchi ulteriori per questo, perché a noi ci interessa smuovere le coscienze, se poi a qualcuno dice che la stregoneria è fare i riti voodoo, questo è roba da cristiani, cioè sono i cristiani che evocano il demonio, sono i cristiani che fanno il terrore, questo non ci appartiene. Sì, c'è una da telefonata. Sì, pronto? Ciao, chiedete in linea un attimo. Sì? Si parla pure. Niente, voglio dire, andate avanti. Forza e coraggio. Grazie. Sì, senza problemi, fatevi un po' capire, io ho 29 anni, non ne ho mica 40, ma fate andare a te, mandate avanti insomma. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Pronto? Sì. Sì, buon giorno, Marco. Ciao. Non mi meraviglio che le prime due telefonate abbiano avuto concordanza, perché i campioni di democrazia come si sono sentiti rappresentanti quei due signori o la signora anche, Giovanna, perché tra l'altro mi spiace che una radio che è così libera, che ha lasciato parlare tutti, si sentano gente in grado di fare interventi di quel tipo, sinceramente mi fanno rabbrividire. Rispondi per noi, stai rispondendo per noi. Scusi, no, scusi, chiudere la bocca in quel modo alla gente, come ha preteso loro addirittura andando a informare Franco di queste cose, vuol dire essere campioni di bigottismo, lasciamo perdere. Io, no, queste cose mi danno un po' di fortissà, perché io mentre vi ascoltavo, anche se non sono d'accordo al 99% con voi, andavo in cerca di quell'1% che magari potrebbe servirmi, che potrebbe magari, non so, essermi mancato precedentemente quando ho avuto altre istruzioni, altre culture, altro, non so, modo di aprirmi alla società, alla natura, alla vita, eccetera. Io credo che, come ho sentito dire una volta da Gandhi, che tutte le religioni sono rami di uno stesso albero, tutte le religioni. Io pensavo, mentre voi parlavate, che la religione cattolica ha detto falci ai dei pagani, no? Li ha trattati da falci dei pagani. Io credo che falci sono quelli che hanno voluto difendere fino adesso la verità della religione cattolica, perché più ne hanno fatte di cotte e di crude con la gente. E quando si viene a dire che voi, insomma, fate schifo perché fate i riti con le cose di Rospo, se anche fosse vero che voi arrivate a questi punti, supponiamo, io credo che bisognerebbe guardare i riti che fanno gli altri senza toccare le cose di Rospo, toccano magari centinaia di miliardi, toccano magari, non so, avete visto che schifezze che hanno fatto con l'inquinamento, con il consumismo, e dentro c'è perfettamente la mentalità cattolica cristiana, si è adattata perfettamente a quest'era di consumismo, adesso fa finta di stracciarsi le vesti, il Natale lo hanno voluto così, hanno cominciato a fare gli sfarci in chiesa e poi li hanno fatti fuori nei negozi. No, voglio dire, a questo punto, se siamo d'accordo che le cose vanno male e vengono fuori due signori, e ripeto il nome, cara Giovanna e caro Angelo, a volervi tappare la bocca, perché in nome della democrazia si sono definiti campioni di democrazia, arrivate a questi punti, insomma, allora dovete pensare, veramente sbagliate a telefonare, veramente fate voi schifo, ma porca miseria, non so, è tanto semplice, lasciate parlare la gente, la saluto e buon Natale. Grazie, grazie. Anche io dissento, dalla Giovanna e Angelo però, perché dicendo quello che hanno detto, considerano gli ascoltatori dei perfetti, non so, fucubi, ignoranti della radio, non so, non so come ci giudicano. Poi la frasetta che ha detto, parlo io con Franco, come se ci andasse a letto e riesce a convincerlo di tutto ciò che si può fare là, al di là di questo, vedete come siamo messi con questa religione, abbiamo paura di sentire un'opinione diversa, un credo diverso, un'idea diversa, cioè è spaventoso questo. Cos'è Giovanna, hai paura di sentire qualcosa che non ti dice il prete in chiesa? Guarda, se sono pericolosi questi ragazzi, cosa non ha combinato la chiesa fino adesso? Prostituta di classe, come è chiamata? E il ricettacolo di... insomma basta, perché se no vado ad offendere cose che non devo offendere. Vi ascolto ragazzi, ciao, vi ringrazio. Noi, non è che abbiamo... un attimo un'altra telefonata. Buongiorno, volevo sapere, su che testi vi siete istruiti? E gli autori di questi testi? Ah, vado io allora. I testi che mi sono istruito sono i testi che io ho scritto alterando la percezione nell'arco di 30 anni di lavoro. Io non so scrivere e io sono andato alla ricerca in tutto quello che sono riuscito a trovare. Ma dove ha trovato questa informazione? Ma in qualsiasi biblioteca. Se uno riesce a alterare la percezione, riesce andare a cercarsi le spiegazioni della percezione alterata. Se uno impara a viaggiare nel sogno, impara a cercarsi quello che gli serve per spiegare quello che gli succede. L'elenco dei testi non lo posso fare, per un altro trucco di 30 anni ho trovato talmente tante cose, che è assurdo. Sì, anche perché il paganesimo, il politeismo, la stregoneria non sono insegnati tramite testi, ma tramite comportamenti e immagini. Di conseguenza le streghe, come dicevo prima, non hanno lo stesso dei testi sacri, hanno lo stesso dei rituali deformati dai cristiani, ma li hanno lasciati. Cioè, proprio perché la necessità delle persone non è tanto un testo, ma perché noi possiamo parlare fra di noi. E quando noi nasciamo... E quando noi nasciamo...